Al primo piano del mercato civico di Carbonia trovi oro, frutta e verdura, il tuo orto personale con prodotti sani e genuini. Rossella, buongiorno, vorremmo un po' di frutta, cosa ci consigli? Allora, frutta di stagione sicuramente abbiamo dell'uva, pere, pesche buonissime. Fai così, dacci quella che costa meno. Recycling wood, working hard, you're doing good, turn them real quick by the right elbow, grab your partner, here we go.